Chi ha vinto la prima edizione del festival? Mina, Nilla Pizzi o Iva Zanicchi? Nilla Pizzi Nilla Pizzi Nilla Pizzi? No, Nilla Pizzi Nilla Pizzi? Iva Zanicchi? Nilla Pizzi Nilla Pizzi Nilla Pizzi Eh, Nilla Pizzi Noi siamo meglio di conalare Eh, sì, sì Chi cantava? Ti supererò, in amore andrò molto più lontano dove tu stupore sei Morandi Bola, Fausto Leale e Anna Oxa O Ron e Tosca? Fausto Leale Fausto Leale Forse la Tosca? Fausto Leale Gianni Morandi Morandi e... giusto? E Cola E Cola, giusto? Fausto Leale A me sembra Anna Oxa Quali cantanti in gara quest'anno è la prima volta al festival? Giorgia, i Modà o i Cugini di Campagna? I Cugini di Campagna I Cugini di Campagna? I Cugini di Campagna No, Vabbè Cugini di Campagna non penso Ma dai allora Ma no, ma dove i Cugini di Campagna? I Cugini di Campagna? I Cugini di Campagna I Cugini di Campagna I Cugini di Campagna E i Modà? I Cugini di Campagna Campagna Con quale canzone Gianni Morandi ha vinto il festival nel 1987? Uno su mille, fatti mandare dalla mamma o si può dare di più? 87 Si può dare di più Si può dare di più Si può dare di più Vabbè, non si può dare di più, era come Enrico, Ruggeri, Tozzi, questo qui, no? Uno su mille Si può dare di più? Esatto Tutte le ho prese Si può dare di più? 87 Uno su mille Si può dare di più? Esattamente Ma no, non sbaglio nulla, sono meravigliotta Ma no, non sbaglio nulla, sono meravigliotta Satti mandare dalla mamma, si può dare di più Chi tra i cantanti in gara ha vinto due volte a Sanremo? Giorgia, Anna Oxa o Marco Mengoni? Anna Oxa? Giorgia Eh, lo so, lo so Va bene, dai, però la percentuale è positiva Esatto, esattamente Anna Oxa Forse Mengoni? Giorgia Mengoni Anna Oxa Giorgia Giorgia La Oxa Anna Oxa Esattamente Mi date qualcosa, mi date un premio Questa è l'ultima Ciao, sono il bo